Hai realizzato quello che avete combinato a Rio? Sì, ora sì. Come vedi dal mio sorriso la felicità è tanta. Ho ripensato tante volte a quello che è successo, a come abbiamo giocato, a come abbiamo affrontato il torneo, tutti i sacrifici fatti dai ragazzi e dallo staff. Sono molto fiero di loro e di come abbiamo lavorato. Tu non hai sempre voluto separare la tua carriera di giocatore da quella di allenatore, però è vero che la vita ogni tanto restituisce. Quello che ti è stato tolto da una parte ti è stato restituito. Può darsi. Sinceramente chissà. Magari avrei fatto schifo da giocatore all'Olimpiadi. Non sta scritto da nessuna parte. La soddisfazione di essere arrivato fin lì resta comunque grandissima. Sì, sì, assolutamente. Devo dire che, come hai detto tu, la vita toglie, la vita restituisce. Diciamo che poi bisogna costruirsi i percorsi perché poi ho sudato tanto per arrivare qui, ho lavorato sodo, ho fatto lavorare sodo. Per cui diciamo che un po' di fortuna aiutata dalla forza di volontà è stato... è andato tutto bene. Sei più cattivo da allenatore di quanto eri da giocatore negli allenamenti? Ma basta, no. Non penso di essere un allenatore cattivo, no. Io ho sempre fatto... ho sempre avuto come punto di riferimento nel mio metodo di lavoro la condivisione. E penso che i ragazzi siano anche molto più responsabilizzati quando vengono resi partecipi delle decisioni, quando si condivide. Per cui quando c'è dietro un ragionamento fondato, ben strutturato, anche loro sono felici di sposarlo. Non hai il contratto, però poniamo che le cose vadano avanti. Come si inizia a pensare al prossimo quadriennio, alla prossima stagione? Perché in realtà del Bicci non ci si deve accorgere soltanto ogni quattro anni, ma ci si augura tutti gli anni. Ma allora, partendo dal presupposto che spero che mi venga rinnovato il contratto, sono convinto che dovremmo iniziare abbastanza in fretta, anche perché i ragazzi non possono permettersi di stare troppo tempo fermi. Nel prossimo anno c'è già un mondiale che sarà ad agosto, se non erro, a Vienna. Ma ci saranno molti tornei prima da affrontare, per cui come sempre penso che indicativamente la stagione inizierà a marzo e noi non possiamo farci trovare impreparati.